La musica protagonista anche a Forlì con la Due Giorni all'ex Chiesa di San Giacomo della rassegna internazionale Open Music. Ce ne parla Anna Maria Cremonini. Due giorni di grande musica, quella che emozione, che ha fatto di Forlì, dell'ex Chiesa di San Giacomo, un palcoscenico unico. E' Forlì Open Music, seconda edizione, pensare in suoni, prestigiosi i nomi del panorama internazionale a ingresso gratuito. Tra loro la star del jazz internazionale, il cornettista di Chicago, Rob Mazzurek, che accompagnato dagli immortal Burst Bright Wings, ovvero Cristiano Calcagnile, Danilo Gallo, Fabrizio Puglisi e Pasquale Mirra, ha presentato la prima assoluta di Forlì Scorsa, composta per l'occasione dedicata proprio alla città romagnola. Una dichiarazione d'amore alle dolci colline, all'ospitalità, ai sapori di questo splendido territorio, spiega Mazzurek, che è stato premiato più volte come miglior jazzista dalle riviste specializzate di tutto il mondo. Una vera e propria maratona, concerti a qualunque ora, tra le chicche, anche il trio, composto da John Tilbury, Eddie Prevosta e Giancarlo Schiaffini, data unica, e l'ecletico pianista e trombettista Dino Rubino e Paolo Angeli, con la sua chitarra sarda. Una riflessione al tema dell'edizione 2017 del Forlì Open Music, organizzata dal Comune di Forlì, in collaborazione con i musei di San Domenico, l'Associazione Culturale Area Sismica e Elisabetta Righini, sul tema del comporre.